Applauso a loro perché invece hanno fatto molto bene le cose semplici e molto bene anche le cose difficili, cosa che invece noi non siamo riusciti a fare nel terzo set. Terminante piano a muro nel quarto set. Sì, meno male. No, bene, dai, ci stava, doveva andarci una scantata e quindi ognuno ha dovuto fare il suo. Anche con Santi c'è molto il feeling in attacco, stiamo vedendo, insomma ti trovi bene. Lui l'ha detto, matta un braccio veramente alto e lui veloce e mette giù qualsiasi cosa. Mi devo pagare davvero? No, no, vabbè, ci troviamo molto bene, lui è molto bravo, è molto attento, quindi siamo stati bravi perché sicuramente siamo partiti magari un po' più claudicanti, invece siamo poi andati molto bene dopo, bene, bene. Buona la prima, buona la seconda, possiamo dire che siete voi la squadra da battere anche perché siete i detentori del tivolo? Io questo non lo so, so sicuramente che siamo la squadra che vogliono battere tutti come è normale che sia perché siamo i campioni in carica, quindi ci sta. Questo è bello, dobbiamo essere consapevoli perché dobbiamo stare attenti veramente con tutti, più ancora di quanto saremmo dovuti stare attenti senza avere questi titoli. Sì, sì, dai, dai, è morte. Matti, un palazzetto bellissimo, un palazzetto pieno, c'è una grande festa anche lì fuori oggi. A me piace da matti il Palai Amai, guarda, ho un mio grandissimo amico che gioca qua, ho contentissimo infatti quando mi ha detto che giocavano al Palai Amai, è bello. Mi piace giocarci, quindi poi pieno così è tanta roba. Auguro veramente che possa essere pieno anche durante il maschile, perché so che terminirà un buon pubblico, quindi se si trasferisse al maschile ci fosse una pallavolo viva così vicina a Milano è tanta roba.